Ok, salve raga, questo è un gameplay di S4 League, adesso non so sinceramente cosa succede. Questa è una modetta arcade, che praticamente bisognava uccidere tutti i caffili che arrivano, non so, avevo bisogno di fare i tentativi, avevo provato la missione a morto. Ok, salve raga. 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti